Ciao Marco Mazzaglia, io mi chiamo Cristina Bosco e sono una docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino e ti ho contattato perché voglio farti qualche domanda e avere qualche tuo suggerimento per eventuali nuovi studenti del nostro Dipartimento sapendo che tu hai proprio iniziato i tuoi primi passi diciamo nell'informatica presso il nostro Dipartimento. Allora intanto ti presento, tu sei il direttore tecnico dell'Academy di Sinestesia e ti occupi specificamente di videogame e gamification e in particolare ti pregi del titolo di videogame evangelist, se lascio te la parola così ti presento un po' di meglio. No, e questo ogni volta quando si tira fuori questo videogame evangelist dici ma da dove l'hanno tirato fuori? E' un ruolo che nasce dall'esperienza di 11 anni fa, io lavoravo in Milestone e a un certo punto dopo aver fatto un po' di interventi fuori, quello che capitava e che io sono un IT manager, io ho naturalmente la mia formazione tecnica che deriva dal mio percorso che ho fatto a informatica. Poi ho fatto sempre un percorso un po' strano perché mi sono laureato in informatica teorica e quindi tutta la parte di intelligenza artificiale, però mentre studiavo o dal terzo anno in avanti ho cominciato a prendere una cooperativa nello scopo di lucro che offriva servizi informatici agli enti nello scopo di lucro a lavorare in quello che poi la mia seconda passione, cioè le infrastrutture, la rete, internet eccetera. Quindi io mi spendevo come IT manager, invece a un certo punto mi chiamano dalle risorse umane quelli di Milestone e mi dicono ma guardi io ho già tutto preoccupato cosa avrò fatto, mi vorranno licenziare, ma perché uno ti chiama il capo delle risorse umane e un po' di timore ce l'hai nel senso che dice ma perché mi sta chiamando? Poi che è una persona straordinaria, arrivo su e a un certo punto davanti alla scrivania mi posa un blocchetto, una scatolina, questi sono i suoi nuovi biglietti da visita, da domani lei è fuori, fuori sarà il videogame evangelist di sinestesia, di Milestone, quindi sinestesia è l'azienda per cui lavoro adesso, quindi deriva da lì che cosa fa il videogame evangelist, va in contesti che non appartengono al mondo del gaming in modo specifico, ma che magari sono interessati come possono essere scuole superiori, università, eventi in cui c'è un pubblico di un certo tipo, magari anche generalista, a spiegare come possono funzionare i videogiochi nel loro contesto, quindi come può funzionare un videogioco dal punto di vista formativo, quindi io gioco ma in qualche modo faccio imparare delle cose alle persone e così via. Quindi questo è il gamification. La gamification è l'uso delle tecniche di game design in contesti che non sono di gioco e può includere anche i videogiochi, l'applied game viene usato dentro la gamification come una delle iniziative per coinvolgere le persone, però è un videogioco che mette insieme apprendimento e divertimento, perché se queste due cose sono squilibrate facciamo un po' i giochi degli anni ottanta educativi che penso che fossero la tortura più terribile da fornire a un informatico, sviluppo un educational game degli anni ottanta, una roba terribile che fortunatamente è cambiata col passare del tempo. Allora quindi adesso ci hai spiegato che cosa fai, tu sei partito come hai detto da una laurea in informatica presso il nostro... Assolutamente. E poi hai fatto tutto un tuo percorso lavorativo passando attraverso varie varie realtà per arrivare a sinestesia, dove ho fatto questo ruolo, abbiamo detto di direttore tecnico di Academy. che cosa pensi che ti abbia dato la laurea in informatica, consiglieresti a uno studente oggi di seguire questo percorso e perché? Allora la laurea di informatica prima di tutto mi ha permesso di declinare tutta quella passione che avevo dentro per il mezzo informatico, perché mi ha dato l'opportunità scegliendo delle cose che mi piacevano, mi interessavano e secondo me questa è stata la chiave. Le persone devono scegliere un percorso di studi non in funzione di quello che può essere il mercato o la visione che uno ha del mercato di lì a un tot di tempo, ma deve essere qualcosa che vi piace perché ci passerete delle ore, ok? E ci passerete anche delle situazioni fastidiose, no? Per cui alla fine sei carico di lavoro, non è che nel mondo i videogiochi adesso tutti ogni volta dicono ah ma se lavori lì vuol dire che giochi tutto il giorno, eh sì, va bene. Le classiche domande sono, le classiche affermazioni sono giochi tutto il giorno oppure mi dai qualche gioco gratis, ecco questo è... però non è quello e prima di tutto appunto avere un oggetto, una materia che vi appassioni, perché poi da lì eh se siete ben disposti riuscite a mangiare anche altre passioni perché riuscite a scoprire altre cose che che vi affascinano. Dall'altra parte invece che secondo me è il sottofondo che però è fondamentale nella nella vita e nella carriera di una persona e che mi ha dato un modo di ragionare, ok? Un metodo per ragionare. Per la serie, vogliamo dirle in modo brutale, gli esami sono una scusa che ti veng... che ti viene assegnata per costruirti un tuo modo di ragionare. È una scusa bella perché si spera appunto che uno scelga degli esami appassionanti, ok? Eh però è fondamentale riuscire a chiedersi il perché delle cose. Eh ma se questa cosa cambia di un po' eh che... perché è cambiata o che cosa porta dietro questo cambiamento? Che è una cosa difficilissima da acquisire e che vi servirà per la vita perché nel mondo... quando uno entra nel mondo del lavoro viene inserito in un tourbillon di di cose da fare, cose da imparare, eh relazioni da da tenere con le persone che anche questo ha un aspetto veramente fondamentale. E se non hai questa attitudine a chiederti e a capire come affrontare le cose è eh è frustrante, è difficile. Questo che è il bel regalo che ti fa l'università. Certo, concordo, concordo pienamente con quello che hai detto per la mia personal esperienza. Mi trovo assolutamente lina. No, io ho una serie di episodi lavorativi in scenari perché io non ho lavorato subito nel mondo dei videogiochi. Ho lavorato all'inizio in un'azienda che serviva, un'azienda privata che serviva alle forze di polizia, carabinieri, banca d'Italia, ministro della, ministero della difesa, dell'interno. Quindi tutte quelle cose eh molto simili a eh gli scienziati che ci sono in nella serie tv 24, no? Con gli agenti segreti e queste cose qui. Eh e lì è stato proprio il primo scenario, no? Mi ricordo c'era un progetto eh per un ente come la banca d'Italia eccetera, una roba importantissima. A un certo punto volente o non ente mi danno anche un pezzo da fare di cui io non sapevo proprio niente, niente. Però grazie al fatto che eh o insomma avevo questo metodo che mi permetteva di imparare le cose. Alla fine il progetto è venuto alla perfezione. È stato veramente uno dei pochi progetti in cui c'è stato qualche piccolo dettaglio ma veramente insomma è andato molto bene. Diciamo che la laurea in informatica consente di occuparsi di tante cose diverse. E la laurea in informatica è bellissima perché? Perché un sistema informatico lo trovo in ambito medicale. Lo trovo nelle assicurazioni. L'informatica ci circonda. Come dico ai miei studenti e anche a quelli che magari devono valutare un processo di digital transformation eccetera. L'informatica ormai è diventata importante come leggere e scrivere. Eh se riusciamo a capire che quello che stiamo facendo noi come informatici è qualcosa che cambia le nostre vite e le vite delle altre persone perché permette di utilizzare la tecnologia in un altro modo. Allora abbiamo abbiamo per me sbancato nel senso che questa trasmissione di contenuto sopra il veicolo tecnologico influenzerà le persone e influenzerà anche in positivo il progetto che stiamo facendo. Permetterà anche al cliente o al nostro datore di lavoro di capire quali sono le nostre abilità. Benissimo. Grazie. Mi sembra che hai comunicato tutto il tuo entusiasmo e spero che venga recepito dai nostri studenti. Ti ringrazio ancora e spero di rivederti presto. Grazie. Grazie a voi. Io vi dico solo che a informatica ho trovato dei docenti che erano che sono state proprio delle delle perle umane persone che mi hanno fatto da da mentore soprattutto docenti degli ultimi anni perché poi con loro hai dei hai un rapporto molto più più vicino. Buona iscrizione a tutti verso quello a cui sarete insomma chiamati però ragazzi informatica è interessante. Benissimo. Arrivederci. Grazie.